Ciao, buongiorno a tutti. Ci eravamo lasciati alla scorsa edizione della fiera qui di Rimini a novembre durante la quale avevamo presentato la nuova batteria, la ZBT 5K, utile per l'installazione in sistemi trifase e avevamo promesso a tutti che avremmo sviluppato una evoluzione del prodotto, evoluzione che abbiamo il piacere di presentare invece qui a Key Energy di nuovo a Rimini. L'evoluzione consiste nell'aver aggiunto alla batteria ZBT 5K un inverter monofase, che è questo che vedete qui nella parte alta, di taglia da 3 a 6 kilowatt, esattamente analogo ai nostri inverter HP che molti di voi hanno utilizzato fino ad oggi. Il sistema porta e offre tutta una serie di vantaggi importanti, quali una facilità di installazione avanzata, quali una serie di prestazioni ottimali, in particolar modo un sistema che consente l'installazione di batterie senza possibilità di sbilanciamento tra l'una e l'altra ed offre quindi una immediatezza di utilizzo che non ha uguali. Il sistema lo lanciamo con il nome di Easy Power One and All, a indicare il fatto che si tratta sì di un sistema all in one, ma è un sistema ancora modulare, scomposto, ogni batteria ha capacità a 5 kilowattora e si può realizzare un sistema da 5, 10, 15, anche 20 kilowattora con inverter monofase abbinato. Vi aspettiamo qui al T-Energy, al nostro stand, venite numerosi per poter vedere il nostro nuovo prodotto, il nostro nuovo lancio. Grazie e ciao a tutti.